Una situazione lavorativa come se ne vedono tante. C'è chi compie il suo dovere e chi si prende una pausa. Chi viene sollecitato ad addempire le proprie mansioni lavorative per incrementare il profitto dell'azienda e guadagnarsi lo stipendio. E chi ancora, giustamente, preferisce migliorare le pubbliche relazioni in un certo senso o comunque i rapporti tra colleghi. Ma il confronto con il capo arriva sempre e sicuramente per la nostra amica ci sarà un nuovo lavoro da compiere ed è giunta l'ora di rimboccarsi le maniche e far valere le proprie capo... No, beh, forse no. A quanto pare, in questo caso, non ce ne sarà bisogno. E come spesso accade, una soluzione alternativa è stata trovata. Ma? E come spesso accade, una soluzione alternativa è stata trovata.